Allora, il 1980, l'anno, mio figlio Moreno decide di andare a Londra a imparare la lingua e incomincia dire io vado a Londra, io vado a Londra, ma era minorenne ancora. Però, con i primi 18 anni, lui prende su, con il sacco pelo sulla schiena, prende su e va a Londra, fa il suo viaggio, io disperata perché non sapeva dove va, va via così, ma però arriva a Londra, è stato bravo, ha trovato lavoro, tutto quanto, ed è vabbè. Ora io e mio marito decidiamo di andare a trovarlo, mio primo viaggio in aereo. Allora, mio figlio mi telefona e dice, mamma qui non c'è l'olio, non c'è, io disperato ho detto, non c'è l'olio, non c'è questo, non c'è quell'altro, faccio io da mangiare, faccio io da mangiare a casa, dai che, allora mi metto tutto il giorno e tutta la notte a far la pasta al fuoco, a fare il porno, a fare il pollo rosto, a fare, compro l'olio, compro tutto, faccio una valigia di alimenti, cibo da mangiare, proprio tutto cotto, e l'olio, una bella bottiglia di olio, di vetro, con la bottiglia di vetro, la bella idea da mettere incastrato dentro la valigia, senza metterli in una borsinadina, niente, così la bottiglia ci stava così bene incastrata fra due tagami, dico, lì non succede niente, vabbè, allora alle 4 del mattino, nella vigilia, il 26 dicembre del 1880, alle 4 del mattino partiamo di qui dalla provincia di Ravenna e andiamo a Milano a prendere l'aereo, dovevamo andare a Milano, e prendiamo, io ero disperata, il primo viaggio trebavo tutta, a un certo punto arriva l'aereo, c'è l'aereo, dobbiamo andare a prendere l'aereo, con i carellini ci portano le valigie, tutto quanto l'aereo, e noi arriviamo là, a un certo punto guardo, vedo i facchini che buttavano le valigie dentro l'aereo, così a volo, pum, mi è venuto in mente il mio olio, ho detto, oppure te beh, cosa succederà? Però ero già disperata io, saliamo sull'aereo, io tutta lì, mio marito, anche lui faceva la finta di non essere agitato, ma era agitato, dai, mettati la cintura, perché? Io metto, mi metto la cintura, a un certo punto l'aereo incomincia, io lì che tremavo tutta, però l'aereo si alza, però io ero disperata, a un certo punto mi manca il respiro, e mi danno l'ossigeno, ho fatto tutto il viaggio con l'ossigeno.